E' domenica 29 agosto, buonasera, ben ritornati all'appuntamento con la voce pavese speciale estate, oggi parliamo di un tema che ha quasi dell'incredibile, parliamo delle vaccinazioni anti-covid e del fatto che la provincia di Pavia sia ultima in regione. Ora l'ATS corre ai ripari, come racconta Donatella Zorzetto oggi sulla provincia pavese, è un tema che sta a cuore a tutti, ma guardiamo un attimo i numeri. L'ATS ruola i medici di base, questa è la strategia, ogni dottore dovrà sensibilizzare i suoi assistiti, il progetto a Palazzo Lombardia per l'approvazione. Sono 97.175 i pavesi che non hanno ancora fatto la prima dose e il ciclo vaccinale completo per 315.617. 346 è il numero dei medici di famiglia attivi in provincia, 20.000 sono i grandi anziani che lo scorso inverno si sono vaccinati dal proprio medico a Pavia. E qui il discorso è un po' legato, perché stupisce questo dato, questo dato stupisce perché deve diventare un progetto vero e proprio l'immunizzare dal covid, soprattutto anche le fasce deboli, nella città e nel territorio che è un po' il punto di riferimento nazionale di tanti che vengono a curarsi. Cioè c'è tanta fiducia nel polo sanitario pavese, ma i pavesi sembrano avere poca fiducia sul tema delle immunizzazioni. E ormai siamo alle porte di settembre, siamo alle porte della fine dell'estate, delle vacanze, della ripartenza, in particolare dello spostamento casa-scuola. Stiamo raccontando nelle nostre cronache a Pavia 1 TV tutto il tema delle immunizzazioni nelle scuole e tutto il tema dei green pass nelle scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a spaventare soprattutto è quello che succederà quando si tornerà alla normalità della vita lavorativa, in una provincia connotata dal forte pendolarismo verso la città metropolitana di Milano, con mezzi pubblici che forse sono stati potenziati, ma forse no, in realtà non sono scattati da parte del governo. Lo abbiamo visto e raccontato nelle cronache nelle scorse settimane i necessari potenziamenti. Dunque, avere una barriera che si chiami vaccino per non prendere il covid o se i fettati non finire in terapia intensiva sembrerebbe davvero una priorità. Ora, torniamo anche a parlare di un altro tema però, dell'importanza della medicina territoriale, dell'importanza del valore dei medici di base, che in questa operazione, lasciatemelo dire, si stanno distinguendo dopo che sulle prime qualcuno li aveva criticati dicendo, ah ma questi medici di base non vogliono rendersi disponibili per le somministrazioni e quant'altro, quando in realtà i medici di base, in molti casi, non si erano resi disponibili sulle prime a somministrare nei loro ambulatori i vaccini, un po' per le difficoltà legate alla conservazione del vaccino e all'approvvigionamento, un po' per la burocrazia dietro a ogni iniezione e un po' anche nel non poter, magari in caso di emergenza, magari in pochi casi in cui la persona vaccinata fosse stata male, garantire un pronto intervento, perché poi c'è anche questo tema da analizzare con i dovuti modi. Ora però, invece, sulla questione delle sensibilizzazioni che è necessario attivare, i medici di famiglia hanno un ruolo importante. Ora terminato il periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze estive, i medici della provincia di Pavia fanno quadrato con ATS per cercare di portare i pavesi a ragionare su quanto sia importante immunizzarsi. Bene questo segnale dei medici di famiglia, però è anche importante che i cittadini facciano la loro parte in termini di senso di responsabilità nei propri confronti e anche nei confronti degli altri.